Il tempo che si gioca e fare una parata decisiva vuol dire avere grandi costruzioni, essere grandi in un'altra squadra. E come fai ancora con la parata che tu hai fatto? È bello, perché si è disegnato con le stazioni che non si è fatto male. Però è vero poter entrare a partire davvero così, ma è un partito con la gente. No, è vero poter entrare a partire con la squadra. Se stanno in giro, si è buona, è una parata difficile. Se stanno in giro, si è buona partire. Però dobbiamo continuare con la testa, essere concentrati e controllate. Zero emozioni o un po' come loro? Mi siete detto che dove mi entrate, abbiamo avuto un po' di emozioni molto costruite, commettendo un'oppesa. No, le emozioni sono il vestito di questa parata. E ci siamo così stavoli, ma anche se stiamo in giro, il nostro personaggio è anche bella, ma è sempre bello poter entrare. E' un po' di emozioni molto stavoli, ma poter contestare e seguire queste strade. Ci descrivi la tua parata, non è anche con la mano di riporto, ma con la mano, diciamo, quella utile. Se è la tua parata, che è un po' di emozioni. e poi è un po' di emozioni. E abbiamo visto un po' di emozioni. Abbiamo visto una parata, nero, no? Ho visto il profondo. E ho provato a stare ex, pioia, con il compito. Avete mai citato di arrivare sulla parata. Abbiamo visto dopo la rivedo, però, che è stata una parata importante, in questa gombo di uh, magari poteva dobbiamo partire da questo fortissimo, il segno dell'andamore. Sì, abbiamo visto Nando che aveva una voce pasciata, non si è fatto male durante l'anamento, ha fatto qualche riflettura, aveva già qualche problema? No, no, proprio senz'altro, no, dicevo che aveva avuto già qualche problema. Sì, sì, aveva avuto già qualche problema. Ah, avete qua sentito? Sì, sì, è qua sentito. Se, come hai sentito, c'è stata la tribuna, avete qualche fischio alla fine della quarta, la curva invece di continuare, anche mentre uscivate, vado a Claudirvi. Ecco, c'è un buone istante, il pubblico di Bologna, magari qualcuno più a favore della squadra, qualcuno invece di questi cinque parentanti, successi cinque aiutati in cui non ha venuta la vittoria in casa, cominciamo in città nel мі obiettivo, perché c'è un buone istante così non può bere Cody, come hanno sempre avuto un solved in cui non ha venuto lo quei, e c'è una sentimentale, è un buone mauve avuto programma, ha visto una nuviata, con le piccole, é una voce dell'ide overlap, sempre in amare, sempre vicino a noi, ma non sempre con le vigile, in una situazione buona, è un buone Moore, è un buone slips, Grazie.